Il bello è che prima dice meglio che mi fermi qui per non esagerare e poi finisce con questa bastonata totale, Marcello qualcuno sopra il VAR aveva deciso che finisse così, questa è una frase di una pesantezza clamorosa, molto grave quello che dice Sogliano che giustamente come sa si prende le sue responsabilità e non escludo che poi a livello di giudice sportivo per lui ci possano essere delle conseguenze ma credo che ne fosse consapevole. Sì però io voglio che questa volta l'AIA dia una risposta a Sogliano, non soltanto che si prendano provvedimenti contro Sogliano che avrà esagerato, però dobbiamo anche capirlo, lui stava per portarsi a casa un pareggio o magari anche una vittoria perché nel caso in cui non avessero dato quel gol magari davano il rigore dopo e lo segnavano, non lo so, comunque un pareggio di sicuro se lo stavano portando. Io però voglio una risposta una volta definitiva anche se non me la daranno mai ma la vorrei e cioè ma come è normale, cioè è chiaro che lui ti dice c'è qualcuno che ha imposto qualcosa, io non arrivo a dire quello. Dico soltanto che ci devono spiegare perché ogni domenica siamo qui a parlare di episodi che riguardano una squadra. Non stiamo parlando solo di episodi riguardanti tutte, cioè c'è una parcellizzazione, c'è un episodio per il Milan, per la Juve, per l'Inter, per il Napoli, allora dice cavolo ma guarda che sfacelo. No, noi stiamo parlando ogni santo weekend sempre di un episodio che riguarda la squadra, l'Inter. Ci vengono a spiegare cosa sta succedendo. I punti sono stati omologati, la classifica è quella e non glieli puoi togliere e allora che cosa cavolo me ne frega che loro adesso sospendano, fanno. Voi non dovete fare quegli errori, quegli errori non vanno più fatti. E basta adesso perché voi state falsando un campionato. Non vogliamo dire quello che ha detto Zogliano, c'è qualcuno che sta decidendo, va bene, ma ci spieghino cosa sta succedendo. Il campionato è falsato, il campionato è falsato, le partite sono falsate. Eh, Genoa Juve è stata falsata perché quando Rocchi addirittura dice, eh ma in mano di Bani è più rigore che no, è falsata. Quando ti vengono a dire, eh ma è evidente la spinta di Bissec su Strotman, è falsata quella partita. Se mi vengono ancora a dire, eh hanno sbagliato ieri e dovevano annullare il gol dell'Inter, è un'altra partita falsata. E basta! Che campionato è questo? Il campionato della burla? Il campionato della burla. E allora ha ragione Zogliano, ci diano una spiegazione, ci diano una spiegazione. Cosa sta succedendo? Perché l'errore è umano. Quando l'errore è sempre, ogni domenica è sempre nella stessa direzione, ci dicono loro come dobbiamo chiamarla a questa situazione. Ce la vengono a dire. Dicevi, Max? Allora, no, volevo dire una cosa su Zogliano. Secondo me non ce l'aveva con nessuno Zogliano, la persona riguarda bene l'intervista. Lui intende l'altissimo. Ma guarda che questa interpretazione l'ha data anche ieri sera con alcuni dei nostri ospiti, no? Che alzando gli occhi al cielo lui dica... Lui parla del rigore poi dato, poi sbagliato, allora dice qualcuno più in alto, voleva che finiva così. Ma adesso è la posizione, perché su quella sedia... Ieri sera c'era Emanuele Tramacere, il collega di calciomercato.com. Esattamente dalla tua stessa posizione, siccome poi Massimo Brambati di Sogliano è stato compagno di squadra e procuratore, lo ha sentito dopo la partita privatamente, insomma ci ha raccontato questa cosa. A un certo punto Tramacere, avendo la tua stessa sensazione, ha chiesto a Massimo in una pubblicità ma Sogliano che tu sappia è credente e Massimo gli dice guarda non lo so, onestamente non te lo so dire, perché in effetti anche Tramacere ha avuto questo tipo di interpretazione che si intendesse non chissà quale palazzo, ma insomma molto molto più in su... La mia sensazione è quella, poi per le parole di Marcello, come ho detto prima, io capisco la rabbia, perché la capisco, io nella parte opposta sarei uguale. Mi piacerebbe anche a me che qualcuno ci dicesse del perché, perché è troppo facile poi, anche perché l'arbitro cosa c'entra in questa cosa? C'entra poco e niente, non capisco perché debbano sospendere l'arbitro, lì è il bar che c'entra poco, lo sta fissando, lo sta guardando, ma c'è l'immagine dove Fabri guarda bastò così. No no ragazzi, noi pensiamo che lo sta guardando, magari sta guardando il pallone e lui non vede. Ma ti accorgi che un giocatore cade per terra? Ma è più grave l'errore dell'arbitro del VAR? No del VAR, tutta la vita. Ma senza ombra di dubbio del VAR, perché non lo vede. No ma anche il guardaline, ragazzi anche il guardaline, ma sì ma io sono d'accordo con te. Cosa stanno più a fare i guardalini in campo? Una volta questi episodi qui gli segnalava proprio il guardaline, attirava lui l'attenzione, c'è un lato che ho visto quella cosa, invece adesso tacciono, stanno zitti, ma ne diminiamoli, tanto. Se decidono tutto a vissone, togliamo anche l'arbitro dal campo, facciamo gestire tutto a vissone, e c'è tanto. No più che altro secondo me, una cosa fondamentale che ha detto Marcello prima, è che io sinceramente sono stufo di vedere poi che squalificano gli arbitri. Cioè a me non mi interessa che fanno l'errore, poi dopo me lo squalificano per due o tre partite. L'errore non si è fatto. Perché non ti danno una spiegazione. A parte che non mi danno la spiegazione, ma poi effettivamente dal punto di vista pratico, che ci sia Fabri o Nasca o Irrati o La Penna ad arbitrare, a me non cambia niente. Non si devono fare gli errori. Cioè è troppo facile poi dopo squalificare, lo metto in Serie B, faccio due o tre turni. E allora cosa fai? Non deve fare l'errore in presa diretta. Ho capito, l'ha fatto. Dopodiché cosa fai? Eh ho capito tizzi, però ogni volta diciamo l'ha fatto. No ma hai ragione, siamo d'accordo con te. No no, non sei chiaro. Ma siccome l'ha fatto cosa devi fare poi? No certo, è una specie di punizione però che gli danno dopo la squadra. Cioè voglio dire, rifai la partita? No, non devi rifare la partita. Secondo me con un errore così non devi permetterti di far passare quell'errore lì in diretta. Cioè devi segnalarlo subito. Ho capito, ma siccome non l'hanno segnalato, come l'uno o l'altro, hanno commesso due errori per tornare tutti e due. Sì, io dico che secondo me lo squalifica un contentino. Comunque sia il discorso che è il tifoso per dire. Alla fine di tutto, se poi crediamo, ma come è già successo in passato, che ci sia qualcosa di losco dietro, allora chiudiamo baracca e burattino. No beh, chi lo pensa dovrebbe anche portare delle prove. Immagina se alla Juve fossero accadute queste cose qua. Ma non lo so, Marcello, ma siccome io non ho mai voluto crederlo in passato e non lo voglio credere neanche adesso. Vabbè, e non sarai tu, però i tuoi compagni di tifo. Gli altri non sa cosa fanno loro. Io personalmente, perché sennò avrei smesso di guardare il calcio veramente vent'anni fa. Io non ci credo che ci sia stata la malafede. Perché è talmente evidente l'errore di entrambi, che non ci può essere malafede. Ma ragione, Tiziano. Tiziano, sei d'accordo che è incapacità? È incapacità. Assolutamente. Alla luce, almeno in questo episodio, è incapacità. L'unica cosa che ti fa venire il dubbio è che sono ripetuti. O sono tutti incapaci. Poi io prendo Nasca, dello stesso di Juventus Bologna. Anche perché voglio dire... Tra l'altro stiamo parlando, credo, correggetemi se sbaglio, ma magari sono io che ho la memoria corta, dei due episodi più clamorosi di questo campionato. Sì. Sbaglio? Perché quantomeno l'altro episodio di cui si è discusso molto, Pulisic e Ingeno a Milan, un minimo di dubbio ti rimane. C'è quello che dice, tocca la scella, tocca la spalla, tocca un pesa. Non c'è chiarezza ed evidenza. Puoi ascoltando, puoi valutarla in un modo oppure nell'altro. Ma credo che in questo momento Juventus Bologna e questo Inter Verona siano i due macro esempi, i due errori gravi. Anche Napoli, anche Napoli, anche Napoli, Inter. Ma sai, anche lì Napoli, Inter, Marcello. Anche Napoli, Inter. E' grave quello di Genova, anche secondo me. Quello di Genova è grave. Napoli, Inter, Genova, Inter. Napoli ti dico no. Napoli è una di quelle cose che puoi dire ma. Ma. Però a Genova non c'è nessun ma. A Genova non c'è nessun ma. È un fallo evidente. Boh. Ieri non c'è nessun ma. È un fallo evidente. Tra uno, due, tre. No, due. Dove non c'è nessun ma, due sono. Gli altri ragazzi sono tutti. Eh ok, Max, ma tu fai sei punti eh. Eh ho capito. Sei punti fai, se no ne facevi quanti. Quindi concentriamoci sulle cose reali. Cioè su quelli gravi sono Genova e Ieri. Sì però c'è, però aspetta. Gli altri possiamo stare a parlare ore, ore, ore. Quelli gravi in ottica Inter. Ma in ottica Inter c'è anche Genova e Juve. Perché nessuno ne parla. Ma l'Inter ha due punti in più della Juve. Per Genova e Juve anche. Perché dai il rigore di Bani e il fallo di Malinossi. La Juve fa due punti in più. Ma se pensate che è così ragazzi. Ci date lo scudetto all'Inter e chiudiamo tutto. Trasmissione. Ragazzi. Eh ma così si. Due minuti, due minuti. Il nostro titolo fa riferimento appunto alla notizia ufficiosa, non ancora ufficiale, della sospensione di arbitro Ivar, di Fabri e di Nasca. Mi viene da domandarmi perché anche Fabri? Cioè l'arbitro che non vede un episodio da campo, tutto sommato va equiparata la sua svista, il suo errore a quello di chi è davanti a un monitor e che ogni replay non vede? Secondo me no. O magari hanno valutato qualche altro errore. No, però a me c'entra ben poco l'arbitro. Per carità non vede neanche il rigore di Darmian, ma anche lì è una dinamica un po' confusa, una situazione un po' particolare. Ha messo tutto insieme, ha detto non vedi questo, non vedi quello, non ha visto quello. Lo puoi giudicare una prestazione non brillante, ma tale da sospenderlo... Beh, non lo so, non so, infatti non ho assenso. Però Nasca chiama Fabri sul rigore del Verona, quindi comunque l'occhio ce l'ha per vedere una cosa non facile da notare. È la cosa che ti fa ancora più venire in dubbio il perché non abbia avuto l'occhio per vedere la luminosità di una storia. O meno che io non ho ragione io. Cioè la luminosità di una storia è clamorosa. Ho visto, ho visto, non c'è niente. Ma no, ma non è possibile ragazzi. No, è possibile. Come fa non esserci niente? Ma sì, vabbè, ma anche se lui dice l'ho visto, visto, di altro ti può dire, hai fatto un errore, stai facendo un errore, un'evidente errore. No, 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 Marcello, per quei casi il VAR non può più intervenire. Quante volte sono intervenuti sui episodi di questo tipo? Sì, però è anche da capire, bisogna anche capire, sto benedetto protocollo, ma sto benedetto protocollo. L'arbitro, ragazzi, scusate, a proposito di VAR e di arbitri, Mazzocchi è entrato in campo con i Napoli a due minuti col botto. Prima sgasa sulla destra, mette in mezzo una bella palla anticipato da Spaudore. Adesso fa fallo, viene ammonito, diffidato, salterà la prossima partita proprio con la Salernitana, ma attenzione perché l'arbitro è stato richiamato al VAR e qua ci sarà espulsione al 99,9% perché l'intervento di Mazzocchi... Quindi vedi che quando... Ho fatto tre minuti, ho fatto tre minuti col Napoli, è un approccio importante. L'arbitro Mariani infatti guarda l'episodio per dieci secondi, sei tanto, simbolo del VAR, corre da Mazzocchi. Rosso. Succede di tutto nella vita, ma dubito non gli dia il rosso. Via il giallo, dentro il rosso, l'avventura di Mazzocchi al Napoli nella prima partita. Tre minuti, Napoli in dieci uomini, Pasquale Mazzocchi è napoletano, sicuramente sentiva moltissimo il suo esordine in azzurro, ripeto, prima azione, bellissima sgasata sulla destra, ma adesso entra con grande ruenza, gamba alta, suola sulla coscia di Lazaro, l'arbitro richiamato al VAR non può fare altro che espelle. Il fatto che si sia fatto ammunire, difidato salta la Salernitana, la pentraterra. Già era un po'... Si poteva intuire. Restiamo così in attesa del dialogo, arbitro e VAR, per capire insomma quale delle possibili interpretazioni l'arbitro che ha detto ho visto tutto io, il VAR che non coglie... Ci rimane solo quello, lo possiamo fare, oltre a quello non c'è niente. Almeno che ci diano, visto che penso come al solito ci sarà un rappresentante in Guglio che farà queste cose, ci darà una spiegazione di quello che in teoria potrebbe essere successo. E poi aspettiamo fiduciosi una prossima domenica che non succeda nient'altro. Eh ma magari Marcello. Se la prossima ci ritroviamo qui a parlare di un altro episodio, allora non abbiamo risolto niente. Eh no, assolutamente. Cioè questa sequela deve finire, cioè deve finire, deve finire. Perché non è possibile che ogni domenica siamo qui a parlare sempre di un episodio che riguarda una squadra e che riguarda anche la corsa al titolo. Perché se la corsa al titolo viene macchiata da questi episodi, e poi la sfalsi completamente, uno può benissimo continuare a vincere tutte le partite, ma se l'altro viene avvantaggiato ogni partita, beh allora, cioè è ingiocabile. Sul VAR, per chiudere, aspettiamo. Ho già detto tutto quello che dovevo dire, l'ho detto. Non è che voglio essere sempre ripetitivo e noioso. Io mi auguro che almeno da domenitanto, ormai francamente ripeto, a me che questi vengano sospesi, radiati, non mi interessa niente. A me interessa che in campo non devo più vedere questi episodi. Questi episodi qua non li voglio più vedere. Ma per la regolarità del campionato, visto che c'è gente, visto che c'è gente che è andata addirittura a far scoppiare calciopoli, perché non si fidava di certe decisioni arbitrali quando non c'era il VAR, quando erano tutte supposizioni. Adesso abbiamo il VAR che le vediamo, le vediamo le cose, le vediamo tutte. Quindi ormai sono evidenti. Non si capisce perché non prendono delle decisioni adeguate. Allora uno ti viene, un sospetto ti viene, un sospetto ti viene. Tutto qui. Perché ci dicano, visto che la parola complotto la possono utilizzare solo alcune persone. La parola complotto certi tifosi la possono utilizzare, anche per anni, per decenni, per secoli possono utilizzare la parola complotto verso un'altra squadra. Quando quegli altri si arrabbiano perché vedono le stesse cose, ma voi per 50 anni avete fatto, ma che... Ben ritrovati, tra poco la rabbia, la furia della Salernitana, addirittura non parla Pippo Inzaghi, ma l'amministratore delegato del club, la furiosa, la Salernitana per errori arbitrali. Ascolteremo la di Milano tra poco. Opini, preparati perché... No, no, Opini, cosa? Per cosa? Io dico, per errori arbitrali. C'era un'espulsione, dicono, la Salernitana è furiosa con l'arbitro e con il sistema per questi errori arbitrali, uno dei quali sarebbe il rosso mancante a gatto. Uno dei quali, addirittura, sono di più, quindi? Ah, così scrivono. E per te l'avvisto loro, scusami? No, perché vorrei sapere come la pensano su Il Diz dopo un minuto e su Blau Vicinardi Rigoli nel secondo tempo. Eh, perché poi ci sono anche quei rigori. No, ma certo, loro sono penalizzati, inzaghi non vengono in conferenza stampa e noi subiamo i torti. Vabbè, raccontiamo quello che vogliamo. Tra poco cosa dicono, il tempo di arrivare in sala stampa. Però, ragazzi, mi sembra di capire che ci sia almeno questo sentono le piccole, no? Cioè, lui si è un po' accomunato alla rabbia del Verona che ascolteremo nelle parole taglienti di Sogliano. Sogliano. Di Sogliano, esatto, esatto. Con che... Però non lo so se poi... Con che coraggio. Diventa un grosso cappello. Io mi domando con che coraggio. Io mi domando veramente con che coraggio. Sai perché? Non ho avvisato anch'io cose clamorose in questa partita. Stavamo controllando le parole dette da Milan, che lavora la Sernitana, già fa sorridere questo. Però, uno che parla di campi Coppa Italia sfavorevoli alle piccole squadre, perché le piccole squadre vanno a giocare in campi più importanti, un direttore dovrebbe sapere che la regola prima delle Coppa Italia è che tu vai a giocare nei campi delle squadre che l'anno prima sono arrivate davanti, non dietro. Può essere giusto o sbagliata questa regola, ma è la regola, non è che ci sia un accanimento verso te piccoli. Diciamo che se la Sernitana avesse vinto giovedì non l'avrebbe detto, probabilmente. Prima, secondo, io stesso qua a fine partita ho fatto i complimenti, parlo per me ovviamente, complimenti alla Sernitana, perché con questo atteggiamento secondo me può salvarsi, però se questo è l'atteggiamento invece di dirigenti che provano a fare un gran casino per far pensare e per far passare passare il concetto che il VAR sbagli verso tutti, allora non ci sto, perché un direttore che viene a parlare in televisione, davanti alle telecamere, dopo quello che è successo oggi, due rigori per la Juventus, non visti, due, non uno, due, su Il Dizzi il primo al primo minuto e il secondo su Vlaovic in area di rigore sul 1-0 per la Sernitana, due rigori, che mi parla di un cartellino per Gatti che tra l'altro è stato dato, quando in cronaca abbiamo visto più volte che ci sono stati di fatto, su Milic è stato fatto un fallo tattico a metà campo dove non è stato tirato fuori un cartellino giallo. Poco dopo McKennie trattiene per la mano un giocatore che si sta girando giallo per fallo tattico davanti alla difesa della Sernitana. Ci sono molte cose che non tornano, ma se un direttore dopo quello che si è visto oggi parla in questo senso, deve dare delle spiegazioni. Sai qual è il problema secondo me? Perché io non me la bevo sta minchiazza. Secondo me il problema poi diventa se tu dici delle cose che poi non sono giuste perché poi la gente valuta, sente, vede perché c'è anche gente che ha visto una partita e secondo me va a discapito della tua società perché il fallo che lui dice, credo, se ho capito bene, è il fallo di Gatti quando entra in scivolata. Allora, la regola dice, poi lui può contestare la regola e a me sta bene, però se la regola è questa, Gatti entra in scivolata, prende la palla perché la prende lui, rimane il piede alto, l'albitro la munisce. Se Gatti in quell'occasione, questa è la regola, non avesse preso la palla, era rosso come regolamento. Uno. Due, il discorso della Coppa Italia, lo sappiamo tutti come regolamento, allora stasera secondo me... Era meglio che parlassi in zaghi e di calcio. No, ma in zaghi io lo capisco perché ha preso gol nei minuti di recupero, credo che rode un po' a tutti. Cioè, anch'io, anch'io sarei arrabbiato. Sfortunato. Però se posso essere arrabbiato e dico, boh, sono talmente arrabbiato che non vado davanti ai taccuini, ma se io vado davanti ai taccuini e dico delle cose che non sono giuste, automaticamente va a discapito della tua squadra. Ma della tua squadra è anche di una situazione che secondo me in alcune situazioni, scusatemi la ripetizione di parole, è oggettiva ed è vera, no? Però questo lamentarsi tutti toglie magari potenza chi davvero i numeri per lamentarsi ce li ha in qualche occasione e l'andremo a rivedere nella nostra mega lente di ingrandimento. Soloroli, cosa ne pensi? Ma io trovo che sia delirante quello che ha detto questo signore e mi dispiace, ma obiettivamente qui siamo... Finché si discute di infatti oggettivi è un conto. Quando ci sono delle libere interpretazioni di questo modo, tra l'altro dimostra che non conosci neanche i regolamenti della Coppa Italia. È grave, è grave questo. Io spero che l'abbia fatto così tanto come provocazione perché non posso credere che non conosca le regole. Però obiettivamente, insomma, mi pare che non sia successo niente di quelli, anzi forse... Di così clamoroso, anzi forse... E forse la Juventus che è danneggiata. Io rimango stupito da Inzaghi che conosco e reputo una persona di livello superiore perché è una persona attenta, sensibile, educata e io non ci credo che lui non è andato in conferenza stampa. Ma magari... Magari è stata una scelta societaria quella di andare... Questo sto dicendo. Perché io non ci credo che lui, uomo di campo che ha vinto tanto, ha perso, ma ha giocato per anni, conosce benissimo le razioni del campo a caldo e a freddo, lo sa quali sono. Anche in una piazza difficile come Salerno hai perso le periode con la Juve, quella di Coppa Italia è finita malissimo, oggi l'hai persa sullo scadere con un uomo in meno perché andava espulso. Maggiore, l'abbiamo detto benissimo. Gatti ha preso un cartellino per quello scivolato durante la partita che era giallo e secondo me non era niente di più poi magari mi sbaglierò, ma lui non può andare dopo una partita del genere con quello che si è visto al primo minuto su il Diz, al primo minuto, non al cinquantesimo o al novantese, al primo minuto. Si è visto un qualcosa di clamorosamente sbagliato ancora una volta perché il VAR ancora una volta non corregge o non aiuta l'arbitro. Però qua ti dà la dimostrazione che ognuno guarda nel suo orticello. Esatto, però come dici tu se non conosce è regolamente grave. Sì, quello sicuro. Perché fa una caduta però Francesco perdoni il discorso è che se io vado ad analizzare gli errori che io ritengo che sono stati fatti contro di me mentre vedo la partita devo avere un'idea di quello anche che mi hanno dato. Allora, prima cosa devo valutare e dire determinate cose che però abbiano un senso perché altrimenti ripeto va a discapito della tua società. Uno, due, sul discorso di Inzaghi io lo posso capire perché comunque è arrivato a Salerno in un momento difficile aveva appena perso con la Juventus pesantemente gioca in casa riesce ad arrivare al 96esimo prende gol lo capisco può anche non andare davanti da qui perché lo capisco. Ma il problema è perché poi vado e dico allora io ho subito questo, questo, questo però dietro dovevano darmi due rigori contro. Certo, questo è stato omesso dal... Capito Gio, cosa voglio dire? Che fossero o non fossero però il dubbio su questi due episodi però posso dire che si sta un po' velenando troppo il campionato si sta velenando un po' troppo e la prima colpa è di chi gestisce il calcio perché obiettivamente chi è? eh insomma io... chi è? lo sappiamo tutti facciamo i nomi? no, non è il caso lo sappiamo chi è che ha fatto l'anno scorso un processo del plus valenza permesso di dare una decurtazione a una squadra che ha fatto plus valenza fittizia che poi alcune non sono fittizie chi ne è? Perché non mi spiega come funziona oggi la plus valenza tra Cambiaso e Dragusin? sapete quanto valgono oggi? sapete quanto valgono oggi? come mai non mi spiega oggi chi ne è cosa succede tra loro due? com'è questa plus valenza fittizia per esempio di due giocatori sono due a caso ne potete prendere altri 50 sapete quanto valgono oggi Dragusin e Cambiaso? sì però voglio dire anche io parlo anche della classe arbitrale che in questo momento davvero quando qualche anno fa nacque la 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 diciamo chiamiamola la moviola perché di questo si tratta c'è un signore con una una moviola in una stanza che si guarda tutti gli episodi e deve dire se è stato fatto o visto quello che invece in campo l'arbitro può non vedere perché può essere coperto può essere girato da un'altra parte può esserci un colpo furbo un'altra cosa cioè per carità hai la fortuna di avere questo aiuto tecnologico e oggi questo aiuto invece sta diventando penalizzante e aumenta la polemica perché io sono il primo a fare la polemica perché questa cosa io non l'accetto sbaglia il VAR non l'accetti non l'accetti io ho accettato ragazzi abbiamo visto dei fuori classe sbagliare dei rigori sbagliare davanti alla porta dei grandi giocatori gli errori li fanno tutti in tutte le professioni in qualsiasi ruolo però quando tu hai a disposizione un mezzo come quello sì una volta potrai avere un'interpretazione invece che un'altra ma però quando sono le cose evidenti e quindi si sta disasperando in più ci metti anche i dirigenti dirigenti che hanno un ruolo per cui sono ascoltati io capisco ieri Sogliano quando fa quella intemerata perché voglio dire dice qui c'è mancanza di rispetto nei nostri confronti anche se va oltre perché qualcuno più in alto del VAR ha deciso e se sei tornato su questo argomento ce ne parleremo però qui sono i dirigenti hanno un ruolo importante perché non è solo per lo stipendio che prendono perché hanno fanno opinione fanno parlare le persone creano delle situazioni di tensione perché di fatto queste dichiarazioni sono veramente ti dicevo per finire sul discorso degli albiti secondo me devono essere un po' più umili perché ti faccio un esempio io ho visto io va avanti così se io invece fermo vado al monitor poi magari rimango dalla stessa idea anche per chi è a casa e chi è allo stadio si arrabbia lo stesso però se io invece ho il monitor e sono in campo vedo o non vedo dico no non ti preoccupare perché io li ho visti e li ho sentiti dire non ti preoccupare così come vanno ad intervenire è lì dove loro non sono umili Giacomo non sono umili la realtà è che non dico tutti gli arbitri già da sempre abbiamo sempre visto si sentono infallibili attenzione e nel momento in cui uno gli dice guarda che lì c'è una robina che non l'hai vista l'hai vista male io ti ho messo un macchinario che ti può aiutare allora va benissimo sei tu che devi dire l'ultima ma vai a vedere Giacomo sei d'accordo con me sei d'accordo con me se fanno oggi un sondaggio chiaramente segreto fra gli arbitri per abolire il VAR secondo te chi è che dice? ma perché voglio io ti dico una cosa cosa che qua forse vi ho già detto spedimento quando noi siamo andati a fare il mondiale in Russia ragazzi vi ricordate? sapete perché c'è stato zero errori? al mondiale perché ogni volta che c'era un dubbio gli arbitri del mondiale andavano a vedere non c'eravamo noi però che nazione rappresentavi tu? non c'eravamo nel mondiale in Russia quando c'era il mondiale in Russia non c'eravamo noi però hai detto noi siamo andati al mondiale in Russia noi chi? ma chi l'ha detto? noi ma noi come noi un noi speranzoso non erano attenti tutti e due guarda che ha detto aspetta io diamo il VAR hai ragione sai perché? no sai perché ho detto noi? te lo dico subito perché gli arbitri in Russia siamo andati noi italiani a insegnare come era ho detto noi per quello erano noi classe centrale io parlavo del VAR adesso è chiaro ecco perché ha detto noi anche perché sono d'accordo vi ricordate che gli arbitri italiani sono andati in Russia non avevo capito non avevamo capito in due due anni che Milan è sulla panchina della Salernitana Maurizio Milan Maurizio Milan con tutta sincerità e stima anche se non la conosco l'anno scorso dopo Juventus Salernitana con un uomo dimenticato in campo dove era? il famoso Candreva che si sono dimenticato vorrei saperlo sarei curioso di sapere questo sarei curioso di sapere dove era questa sera sul fallo di Il Diz dopo un minuto sarei curioso di sapere come fa lei a non sapere che una squadra di calcio arrivata davanti a quella come la Salernitana gioca le pari di Coppa Italia in casa e l'altra la gioca in trasferta quindi non è una regola di adesso e vorrei sapere come fa a non valutare il fallo su Vlaovic come rigore anche quello parlando di Rosso Gatti quando Gatti prende un giallo perché in scivolata prende il pallone e con il resto del corpo che non riesce a togliere dal campo travolge poi l'avversario se non avesse preso il pallone sarebbe stato rosso prende il giallo perché prende la palla nettamente quindi Milan Maurizio Milan Maurizio Milan ripeto la domanda iniziale dove eravate l'anno scorso quando a Torino viene dimenticata una telecamera su un giocatore chiamato Candreva per una vittoria al 94esimo che poi non è mai arrivata allora questo interrogativo magari Maurizio Milan interverrà in diretta perché sapete che sarei curioso di sentire la sua risposta quindi potrebbe anche anche perché se mi dà una risposta esaustiva allora posso anche capire Carnesecchi Carnesecchi rimane sulla linea con i piedi durante il rigore qualcun altro non l'ha fatto ieri ah ci sono anche fermi immagini era da rifare no strano l'anno scorso due anni fa a Torino venne fatto ripetere un rigore proprio all'Inter che vinse 1-0 con gol di Cialanoglu dopo aver subito 24 tiri a 1 anzi 2 perché viene ripetuto il rigore perché un giocatore della Juve entra in area leggermente prima di un anno ma anche lì ogni tanto tornano di attualità delle regole ieri Sommer non era sulla linea di porta quando ho tirato Henri no era completamente avanti con tutti i due i piedi c'è un fermo immagine con questo non voglio dire che per carità non deve fare polemica ma ne parliamo guarda ma qui no soltanto che non vorrei che si trascurasse il fatto sai qual è guarda stai tranquillo che è un piatto forte il fatto sai qual è loro sarebbero campioni d'inverno cioè la Juve sarebbe campione d'inverno no ma quello che se ne frega no voglio dire là eh sarebbe là attaccata all'Inter sarebbe sopra il fatto sai qual è che comunque siccome è erano due punti sopra perché lui fa il conto anche di Genoa Genoa e Verona le ultime due ah perché tu ci metti anche la rapina di Genova si ah beh e beh ha un porto via quattro punti da Vare no stiamo stretti stiamo nelle ultime due senza andare troppo indietro non andiamo non torniamo a Napoli al fallo su Lobotka e a rigore su Simen no io parlo degli ultimi due episodi non calcoliamo quelle eh beh lasciamole stare la spinta con le due mani eh sì Bissec Bissec allora comunque comunque sì diciamo anche vedremo tutto e risiedere ascoltiamo cambiano sempre i regolamenti anche sulle battute dei calci di rigore tutto quanto eccetera se Sommer avesse toccato il pallone era giusto ripeterlo perché non aveva almeno un piede sulla linea di porta il pallone prende il palo io so che la regola è che il portiere deve avere i piedi sulla linea a prescindere che il pallone pare sia cambiata l'ultima volta sì dall'ultimo giro se qualora lui avesse interferito col pallone quindi toccandolo sì sì ma infatti ma diciamo che lì la cosa grave beh ci sono anche le scuse di Bastoni ci sono? le scuse di Bastoni ah le scuse di Bastoni? sì ah questa è sempre l'europea cioè Bastoni chiede scusa per la sbracciata no proprio l'opposto ok no infatti ci sono le scuse di Di Marco che è andato ad esultare in faccia Di Marco e Cerbi dice tutt'altro Di Marco dice il contrario dice io ho esultato perché era un momento in cui dovevo esultare non ho mancato il rispetto a nessuno però mi dispiace se il mio atteggiamento ha io non l'ho mai io sono 50 anni che guardo il calcio anche 60 direi più che 50 cercavo di portare via un decennio no dicevo ma io una roba così uno che sbaglia il rigore è quello che gli vai in faccia a esultare perché è troppo tifoso Di Marco ragazzi allora lo fai per hobby non ti fai pagare se sei un tifoso e fai la roba sui social non è che può sfuggire il profilo a meno che non venga chiarato come raccontano in tanti quando vanno magari oltre Enrico sbagliano qualcosa qua non c'è niente di violento ci mancherebbe altro ma la risposta di Luca Marelli dove scrive sui social gomitata di bastoni gol da annullare lui risponde l'unico gomito che alza è quello del bicchiere ecco pensa all'eleganza della risposta sai che io ieri mi piace sta roba cioè bastoni ha detto l'unico gomito che alza c'è anche il simbolino del bicchiere che gira sui social che poi abbia cancellato no ma c'è perché poi gli screenshot vengono fatti c'è il simbolo del bicchiere la faccia che ride che prende quindi per i fondelli però voglio dire sto gomito adesso è oggettivo che l'abbia alzato no? se non lo siamo io ho anche gli occhiali ho provato anche guardando la vita non crede ci sia ad avere dubbi su questa cosa miglior tacenza esatto miglior tacenza non fu mai scritto ma io dico nel momento in cui uno tra virgolette io ieri ho parlato perché poi nel calcio ti trovi a discutere con sportivi di ogni squadra e ci sono giuventini pessimi per me come ci sono di tutte le squadre e ci sono ottimi giuventini con ottimi interisti anche in giro quindi è bello analizzare con le persone che riescono a vedere oltre la maglietta io per esempio ieri ho visto la telecronaca qua e sono rimasto deluso sinceramente l'atteggiamento di chi raccontava la partita e non raccontare una roba così grave perché tu non puoi omettere che la gomitata è una roba gravissima in quel momento lì perché io quando la Juve fa delle stupidaggini come squadra quando Allegri sbaglia o quando ci sono degli errori a favore di qualcun altro io l'ho sempre detto sono andato a Torino dopo Atalanta-Juve ne avevo dette di ogni sulla squadra su Allegri stesso e sono andato a parlare con lui il giorno dopo quindi bisogna avere anche il coraggio di ammettere gli errori della propria squadra che si tifa e di quando si sbaglia vedendolo con calma e tutto cioè non c'è nessuno che non possa insomma aver visto si omette si tende ad omettere si tende ad omettere però il problema è un altro invece che fare silenzio o proprio tacere in generale perché comunque è una situazione scomoda questa tu vai a izzare così tu vai a izzare le folle ma allora è meglio Inzaghi che ha detto ne ho perse cioè non mi è dispiaciuto il suo modo diplomatico di dire ci sta che Sogliano abbia insomma comunicazione zero perdere le partite così comunicazione zero ne ho perse anch'io così cosa vuol dire? no ma allora ma cosa ti doveva dire? allora meglio di Bastoni che fa una battuta ma Bastoni ieri perché ho fatto questo discorso? perché parlando con un intervista in particolare ieri la prima cosa che mi ha detto dallo stadio e fa sai la mia reazione qual è stata? ma cosa stai facendo? cosa stai facendo? che rischiamo di mettere a repentaglio una vittoria all'ultimo momento con una roba del genere perché una gomitata così? perché anch'io avrei reagito in quel modo allora guardate ragazzi ne parliamo con la rabbia di Sogliano con la risposta di Inzaghi con un silenzio da parte della società Inter che cercheremo di interpretare infatti l'ultimo scuettore dell'Inter arriva perché Conte costruisce una squadra attorno a lui e lui gli trascina la squadra lì è stata fatta a pennello su di lui cosa che Inzaghi non riesce a fare l'anno scorso con la batteria che aveva che era superiore a quella di Conte perché l'anno scorso aveva Dzeko Lautaro Lukaku lasciamo stare Correa però era una squadra che aveva fatto un upgrade l'Inter l'anno scorso e quest'anno rispetto agli anni di Conte Conte arriva dopo due decimi posti settimi posti ottavi posti quarto posto di Spalletti è stato risultato migliore la squadra gliel'hanno presa Conte ma un Conte è farmi Inzaghi non aveva più a Kimi non aveva ha capito li hanno presi sostituti come non li hanno presi Kimi è insostituibile Dunfriis non è valido no non è come a Kimi ha capito ma non è che ti hanno preso zio Piero invece Dunfriis non è proprio un cretino però ha perso secondo me l'Inter di Inzaghi qualche pedina importante rispetto all'Inter di Conte l'ultimo anno c'è ci sta oddio guardiamo il centrocampo di Conte guardiamo quello di Inzaghi adesso non lo so e non ne sono convinto anche perché secondo me il concetto è un altro Conte arriva in una squadra che non vince da anni questo sicuramente ha cambiato la mentalità certo gli fa fare anche una finale Europa League che perdono ma la fanno beh perché escono dalla Champions la finale Europa League l'hai fatta non perché c'è la Champions perché rinconi tu mi devi dire beh io arrivo a Conte non è automatico che esci dalla Champions e non è in finale Europa League però Giovanna non è automatico no Francesco io la vedo così io ho Conte che è il fuoriclasse degli allenatori per me non guardo la finale di Europa League tra l'altro persa guardo l'eliminazione ai gironi dove dovevi beh no perché se porta a casa una Europa League che comunque è un Europa League se me la porti a casa la Champions la vince una l'Europa League la vince una si è arrivato in finale comunque l'Inter non vinceva niente da anni lui arriva in due anni fa una scena di Europa League e un campionato sicuramente in Zaghi il campionato che è la cosa che conta di più insieme alla Champions non l'ha ancora vinto nessuno dei due ha vinto allora siamo al terzo anno facciamo una cosa questo è un dato di fatto è un'oggettività bisogna Milan era più forte tanto è vero che il Milan era più forte di quell'Inter lì no no sicuramente quindi chi ha meriti Pioli in quel caso no è stata brava il Milan è stato bravo a tenere botte in alcune partite Palletti cosa fa un capolavoro beh forse quel Napoli lì però l'Inter poteva starci dietro a me un po' poteva provarci non dico vincerlo perché il Napoli ma infatti cosa chiedono anche i dirigenti all'Inter a Inzaghi col fucile spianato e quello è l'obiettivo di vincere lo Spugnetto infatti è utile che ci rimbazzino poi a noi che noi siamo i favoriti cosa ne fa ridere perché lo dico loro poi ce la giranoi che siamo la settima scuola d'Italia a Rosa oggi volevo dire una nota personale sulla Roma io ho sempre avuto una grande simpatia per la Roma però io continuo a vedere una Roma voglio dire in classifica 28 punti adesso forse farà il 29esimo non so sì e per me di raggiungere Gianni anche un non gioco cioè l'unico gioco della Roma è palla lunga verso Lucca ma scherziamo scherziamo cioè io capisco Mourinho celebriamolo 29 trofei e guai a chi glielo tocca ai romanisti ma per carità io non capisco per oro no ma va bene ma perché ma perché è quello che giustifica sempre porta sempre avanti è il primo dei tifosi cioè lui è uno intanto lo fa in modo molto intelligente vedi che adesso siccome la proprietà non gli dice nulla su rinnova il contratto lui ha già cominciato a dire perché è in condizione di dire se mi mandano via io volevo rimanere capito però voglio dire con la rosa di giocatori che ha secondo me dovrebbe essere lì insieme all'Inter alla Juventus e al Milan quando ci sono queste cose che sono evidenti e sono a mio avviso inspiegabili perché uno può dire ah cosa c'è la malafede no io non voglio credere a quello ecco ma se sono io non voglio credere a quello perché se no io domani vado ai giardinetti non vado a fare questo mestiere che faccio a 50 anni perché il VAR sviene in alcune situazioni perché qua stiamo parlando di VAR che non intervengono non di arbitri non so se è un problema di rapporto allora voglio dire non so se è un problema di rapporto mi pare che fosse Nascale al VAR ho sbaglio sì insieme c'è una curiosità che pochi sanno insieme a Piccinini che era lo stesso Juve Bologna designato per Genova Inter esatto ah scusa per Genova Inter lo stesso lo stesso però voglio dire ecco queste cose sono hanno una gravità intanto nelle classifiche perché poi le classifiche vogliono dire soldi adesso l'Inter probabilmente anche se avesse pareggiato forse lo scudetto magari lo vince lo stesso non ha quella roba lì scusa Gianni ancora una volta perdone altro miracolo di Carnesecchi su Dybala la sponda di Pellegrini defilato Dybala ha provato a calciare sul primo palo ancora bravissimo Carnesecchi a dire di no poco fa anche su una deviazione di Olme ha salvato il risultato calcio d'angolo Pellegrini rimette il pallone in mezzo si salva l'Atalanta prego no dicevo queste cose hanno un peso anche economico di dimensioni assolute perché il Verona in questo momento è in una situazione di grande crisi per il suo presidente per tutto quello stanno vendendo giocatori perché è di fatto quindi davvero avrà uscire con un punto con zero non è la stessa cosa non è la stessa cosa perché un punto per il Verona fatto a San Siro è un punto pesantissimo per tutto per tutto l'ambiente e io capisco siccome in settimana probabilmente anche i motivi per cui non hanno spinto l'Inter ad affrontare questa partita con la determinazione che ci voleva forse l'hanno giocata col bracino perché si arriva il Verona è in rottura i giocatori stanno vendendo la città è in dismissione il presidente non c'è quindi queste cose probabilmente nella testa dei giocatori inconsciamente dico possono influire invece questi sono arrivati questi sono arrivati con una grande determinazione no questo no perché altrimenti andiamo a salutare e però vai a sminuire i professionisti allora no ma io non dico che sia una roba voluta è una cosa inconscia no ma questo io non sono d'accordo perché arriva il Verona io sono l'Inter non li sottovalutano questo no inconscio invece sul discorso dell'errore allora l'errore non ci piove è gravissimo perché comunque ancora una volta quello che dicevo prima l'arbitro è presuntuoso però lì il VAR che non lo chiama proprio sì però ho capito credo che sia proprio il VAR che come Genoa lì c'è stata una presunzione la presunzione dell'arbitro è di dire ho visto io no ma ti spiego perché allora ti dico perché dico questo sulla presunzione allora partiamo dal fatto che comunque anche secondo me lì c'è da interrompere il gioco detto questo adesso ho sentito che Genoa ha spinto prima ieri allora io ti dico ieri sul gol del Verona Arnautovic è stato spinto ma l'arbitro ha ritenuto che non era una spinta tale da poter fischiare il pallo e anche i moviolisti cosa che convisse che non è stato no ma ripeto Giovanna io non voglio difendere nessuno perché non sono un avvocato però ti dico quello che è successo ieri ripeto sul discorso di Bastoni sono d'accordo su quello che è stato detto c'è stato un errore gravissimo sugli altri ma tu come lo spieghi aspetta io subisse per esempio sul discorso di Genoa ti posso fare mille esempi e lì il problema qual è uno è ieri Arnautovic sulla linea di metacampo va in contrapalla il giocatore del Verona non mi ricordo chi era da dietro lo spinge tanto poco Arnautovic va giù il Verona a parte fa gol uno pari l'albitro dice secondo me non era fallo da fischiare l'altro il rigore del Verona non so se vi ricordate io l'ho visto il rigore del Verona l'albitro fischia un fallo a Lautaro Martinez dicendo che l'ha presa con la mano Lautaro Martinez dice no guarda che io l'ho presa con la suola della scarpa vanno a rivedere la prende con la suola della scarpa l'albitro da fallo di mano e dice no ho visto io gli dice Lautaro Martinez allora detto questo ne ha fatti una marea di errori e secondo me questo è stato fatto perché tu sei presuntuoso perché non perché vuoi no perché tu pensi di vedere tutto e invece non è possibile rispetto a Giacomo rispetto a Giacomo c'è una differenza fondamentale su un giallo il bar può non intervenire ma su un episodio lui colpevolizza Fabri io invece Fabri lo assolvo io lo assolvo Fabri invece condanno e non so darmi una spiegazione di come vengono prese delle decisioni di questo tipo evidenti evidenti questo è un chiaro di evidente errore Fabri può dire io non l'ho vista quello non mi richiama perché il check non c'è stato Francesco correggimi se sbaglio qui stiamo parlando come nell'episodio di Genova di un VAR che non interviene cioè che proprio non ritiene di dover avere un check con l'arbitro poi l'arbitro può decidere se andare a rivedere l'episodio è quello è quello tra l'altro scusate scusate bastoni non solo fa questo gesto ma poi intervente perché l'attraversa la colpisce lui e poi di rimando viene fatto il gol di Fratesi quindi voglio dire è uno che partecipa in modo superattivo a quella roba scusa Francesco no no ma figura tanto stiamo qua fino a mezzanotte c'è di tempo per intervenire ci mancherebbe altro guarda il concetto è da dove vuoi che parta perché è un po' confusionale la situazione nel senso che è la prima volta dove io vedo un'unanimità di pensiero al di fuori di chi è un interista però l'interista non si deve sentire offeso perché non è un attacco personale all'Inter o alla società o a Marotta o al tifoso che sgraffigna qualcosa in giro il problema è che tendenzialmente l'interista è abituato da sempre a puntare il dito contro qualcun altro e adesso che si trova in una stazione analoga e non è la prima ovviamente cerca di difendersi però nella partita di ieri ci sono tante cose che non vanno e che sono state omesse che non sono solo il gol a un lato perché se tu mi annulli il gol Bastoni per come è stato spiegato da molti mogliolisti deve essere espulso l'Inter si è un fallo da rosso quello lì se quel fallo viene aspetta Gianni però finisco perché se no non riesco più a tenere il filo del discorso Bastoni salterebbe gli ultimi dieci minuti per una roba del genere prendi una o due giornate e tu la partita con il Monza la salti Bastoni per l'Inter è un giocatore importante unito a questo c'è Barella che in mezzo al campo per un'azione fermata di gioco prende il pallone e lo calci in tribuna era diffidato cartellino giallo a tutti di solito niente Barella avrebbe saltato Monza-Inter il rigore che tanti sottolineano era il portiere fuori dalla linea della porta a me ne frega poco di quello perché poi il Verona si trasforma a rigore pareggia se lo sbaglia come succede perde la partita ma il problema vero e proprio è quello che secondo me vuol sottolineare il direttore del Verona è che su una cosa così vistosa cioè allora un conto è quello che diceva prima Giacomo sulle azioni anche se magari la spinta su Arnautis che c'è non c'è che i mogliolisti dicono che non si è influente eccetera eccetera ma non è una roba così netta come quello che si è visto Bastoni quando punta Duda lo guarda e gli tira una comitata è volontario è antisportivo è condotta violenta perché se lo becchi in faccia gli spacchi denti e naso per fortuna non lo becchi in faccia poi vai avanti l'azione si sviluppa come dice Gianni Bastoni prende la traversa l'Inter tira con Barella fa il gol con Fratesi l'uomo è per terra certo come fa il VAR non accorgersi che c'è un uomo per terra che non sta simulando come Faraoni che si butta per terra viene annullato un gol alla Juventus dove al VAR ci vanno e stanno quattro minuti di fila a scrutare cosa fa Moise Ken non fa niente Faraoni simula si rialza dopo lo vede tutto il mondo lì due gol vengono annullati ma mi vengono a parlare ancora del fallo di gatti in quella partita in quella partita il fallo di gatti è da rosso peccato che annullano due gol alla Juventus che erano buoni allora attenzione finisco il rigore col Bologna di cui si parla ancora di healing era rigore tutta la vita era anche rosso prima c'era un rigore su chiesa dove la Juve ha ottenuto due vantaggi quest'anno ne ha avuti contro di più nella stessa partita qua si parla di errori evidenti come a Genova Bisse che spinge su Strotman in area di rigore per il gol del 1-0 e come ieri che è il gol che porta i tre punti all'Inter anche perché sono non c'è un contrario netto non c'è il bisogno di un contrario che dovrà essere espulso o ammonito su un'azione che porta alla vittoria è questo che fa incazzare gli altri e visto che loro si ritengono da sempre la banda e gli onesti quelli che non hanno un calciopo e non c'entrano niente anche se poi c'è un giudice che se ne esce e dice sono fitti in prescrizione se no il fatto si steva anche per loro con la frode sportiva non l'illecito che è addirittura peggio ma facciamo finta di nulla andiamo oltre qua io ieri prendo i quotidiani online e non tutti parlavano in un senso meno che uno no no però anche meno che uno io ho meno che uno io ho anche tutti gli screenshot meno che uno io non faccio il nome meno che uno ma no sul rigore dici meno che no 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 scusami sul gol ad anullare sulla gomitante di testo si diceva si azione e dubbia ma poi il Verona ha la possibilità la centra che poi il Verona ha la possibilità chi se ne frega sul cartaceo Francesco non si può raccontare ragazzi io faccio un esempio a caso Zazzaroni non prendo tutto sport perché tutto sport è molto figo giuventino o di Torino prendo Zazzaroni che è di Roma col Corriere della Sera leggetevi il quotidiano di oggi ascolta io ti allora io adesso ho qua sotto mano il Var cieco cieco ma perché giusto perché a Napoli quando Lautaro si abbraccia lo botte in mezzo al campo il Var non va a rivedere quello che succede in quell'azione scusami Giovanna fammi finire perché invece in Inter Udinese quando un difensore dell'Udinese passa la mano sulla spalla di Lautaro Martinez fermano l'azione vanno al Var e danno un rigore che poi l'Inter vince 4-0 per carità ma quello è il rigore che dà il Via al 4-0 è un rigore quello? no 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 ma ascolta Francesco io ti leggo la moviola della Gazzetta dello Sport di oggi a proposito del 2-1 dice ah no no io poi sull'online sono d'accordo perché anche la Gazzetta aggiusta il tiro e dice che Bastoni mira e si libera in maniera antisportiva di Duda gomito alto e colpo più di avambraccio che prende il veronese attenzione del collo oggi perché questo è un fallo che porta l'Inter sul 2-1 non che poi hai dei danni nella sua partita è il contrario i milanisti ripeto sono a 9 punti togliendo il re perché ragazzi allora contatto Lautaro Perz contro l'Udinese gomito di Dermian su Chiesa dubbio in Juventus Inter sul gol del pregio dell'Inter cintura di Lautaro su Lubot che ha rigore di Acerbi su Zimane spinta di Bisse su Strotman bastoni su Dudaieri togliamo tutti gli altri lasciamo gli ultimi due sono 4 punti il milan era a 5 punti adesso io non parlo da Juve il milan era nel lotto scusetto ancora oggi oggi il milan che sta facendo disastri per alcuni sarebbe a 5 punti da quella che mi raccontano essere una delle più belle squadre d'Europa no sicuramente nelle ultime due partite ha faticato parecchio sia contro il Genoa che contro il Verona e quindi diciamo che gli errori arbitrali hanno inciso insomma oggi oggi Sebraovic non fa gol al 91esimo Giovanna la Juve pareggia una partita dove c'erano due rigori in campo non uno due e Milan mi viene a parlare del rosso su gatti ma che partita ha visto e Milan è l'amministratore delegata perché anche io un attimo e Milan sembrava l'amministratore delegata della Ferenitana ben ritrovati continuiamo a parlare di Inter siamo ancora sulla lunga scia dello sfogo di Sogliano ripreso poi da Francesco Pini argomentato anche da Solaroli voglio passare da Giacomo Ferri a questo punto no io sul discorso del fallo che ha fatto Bastoni ritorno sul discorso di prima e sono convinto che era fallo ma adesso aver sentito un po' tutti dà l'impressione che l'Inter è lì ma non merita di essere lì secondo me l'Inter ad oggi a prescindere dai favori che hanno avuto anche altri più o meno è stata quella che ha avuto più rendimento rispetto alle altre dietro c'è la Juventus non a caso che è la seconda che comunque vince 1-0 Giacomo è la più forte l'Inter non possiamo prescindere non sto dicendo che non è la sulla carta sulla carta secondo me è la squadra sulla carta che non vuol dire niente poi abbiamo appena citato che quando ha vinto il Milan sulla carta secondo noi era più forte l'Inter però l'ha vinto il Milan detto questo non vorrei però far passare ripeto io non sono l'avvocato dell'Inter sono qua per sento quello che si dice però tante cose non le condivido perché secondo me l'Inter merita di star lì a prescindere che comunque però l'argomento non era il merito dell'Inter l'argomento erano gli oggetti allora però fammi finire hai anche detto che l'Inter se non avesse avuto i favori non era lì come proprio hai detto che avrebbe 4 punti allora io ti chiedo e le altre squadre che sono dietro ditemi hanno avuto solo dei svantaggi vantaggi mai dimmene uno no ma mai dimmene uno no ma no ditemelo voi ditemelo voi la Juve ha col Genova non gli danno un rigore cioè in pratica questo girone d'andata l'unica che ha avuto dei vantaggi è stata l'Inter io ho detto la Juventus ha avuto due vantaggi Gatti non espulso col Verona e il rigore sul Bologna non dato di l'Inter Francesco io sto dicendo questo girone d'andata è stata l'unica che ha avuto dei vantaggi l'Inter è lì perché ha avuto dei vantaggi no però tu sai benissimo come funziona quando si è sotto l'occhio del ciclone io da Juventino te lo posso raccontare no ma senti Francesco io ho vissuto 50 anni porta a porta ok con una squadra che vinceva sempre che è la Juve certo poi ho avuto la fortuna ho avuto la fortuna di giocare negli anni dove poi c'è stato un periodo il Milan che vinceva poi l'Inter certo meno l'Inter più il Milan ok ma detto questo io non voglio dire l'Atalanta la Juve il Milan io voglio solo dire che mi mi dispiace sentire che comunque l'Inter se non avesse avuto questi vantaggi non era lì nessuno ha detto questa roba attenzione nessuno ha detto questa roba ma io non ho detto questa roba è preciso anche un'altra cosa dico semplicemente che mentre oggi l'Inter si può pregiare di avere nove punti di vantaggio sulla terza e quattro avete oh attenzione Gianni Lukaku Lukaku si mangia il vantaggio azione in profondità Spinazzola che è riuscito a prendere sul filo del fuorigioco il pallone entra quasi in area di rigore lo fa defilato poi mette il pallone al centro per Lukaku che col corpo all'indietro colpisce col mancino e la manda sopra sopra la traversa 80 sul cronometro 1 a 1 poco fa un problema fisico per Colasinac e Gasperini ha mandato in campo Palomino quasi per prevenire ulteriori situazioni Colasinac che questa sera aveva disputato una grandissima partita c'è il computo dei tiri in porta 6 per la Roma 2 per l'Atalanta di cui un gol 80 sul cronometro 1 a 1 all'Olimpico ma la gara è ancora apertissima scusami detto questo volevo dire in base a la domanda di Giovanna cioè va bene tutto parlo di Sogliano però nel momento in cui tu dici qualcuno più su del VAR ha deciso allora lì devi specificare chi intendi perché secondo me mi spingo lui è chiaro non fa il nome ma lo dice ma qualcuno più su del VAR chi sarebbe la lega cioè la lega che permette agli arbitri lui parla della lega ma lui in pratica secondo te lui ha detto che la lega ha detto di avvantaggiare l'Inter lui dice se qualcuno sopra decide parla di chi governa la lega io non so di chi parla non lo so a capo della lega non lo so come quando parla in sala conferenza che dice perché poi voi magari siete anche interisti lui parla con giornalisti si si riferisce da una fetta molto chiara per me posso dirti quello quando dice magari voi siete anche interisti lui può dire quello che vuole magari ci sono anche gli interisti ma la cosa più grave secondo me è quando dici che qualcuno sopra il VAR ha deciso secondo me non è il fatto siete interisti lì può rischiare un deferimento secondo me non so ma non so chi intendeva lui Giacomo non c'è da intendere altro quando tu dici sopra di te sopra di te c'è quello c'è qualcuno che ti vuole far vincere la partita in quel caso è forse una stagione però Giacomo tu ti stai perdendo il noccio la questione non è chi ha avuto più favore o chi meno è perché con l'Inter il VAR non funziona mai quando c'è qualcosa contro perché a favore il rigor lo vanno a vedere con l'Udinese per l'Autero a Napoli Osimè lo Bocca la spinta di Bissec ieri col Verona lì il VAR non funziona diciamo che ci sono delle tipologie di errori ma questo l'abbiamo detto però anche prima la Juve vanno a togliere due gol di Moise Keny in Verona Juventus dove Moise non fa niente ma per queste cose cambiano la classifica oggi 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 ti faccio stando su oggi stando su oggi secondo te ti abbiamo visto abbiamo visto la partita oggi noi abbiamo visto la partita salenità la Juve come mai non sono andati a valutare se c'era il rigor altri errori altri errori lo vedi lo vedi allora qua vieni a quello che dicevo prima secondo me subentra la presunzione che io so non ho bisogno della tecnologia però sbagli ma mi dici quando ti ricordi un episodio un episodio dubbio grave di quest'anno contro l'Inter non ho visto il VAR ma no ma io posso dirti la cosa dubbio intendo un fallonetto come quello di ieri una spinta come quella di Bissec posso dirti una cosa io ho la monetarietà forse anche sbagliata cioè io non posso star qua a scrivere perché altrimenti me le scrivo me le ricordo me le insegno me le ricordo quelli che sono successi 24 ore prima 48 ma diciamo che è successo l'anno scorso mi ricordo Salerno e due anni prima mi ricordo il Milan che mi ha annullato un gol di Messias al novantesimo dove l'abito scusa scusa l'anno scorso Francesco ma infatti ci sono episodi che mandano in mente andiamo nelle squadre più piccole andiamo nelle squadre più piccole l'anno scorso stando nel tema al Torino gli abbiamo portato via nove punti detto da tutti non da me però nessuno ha parlato è uscita su la gazzetta non so se ti ricordi dopo sei mesi le scene con Milan di Giroud rigore di buongiorno su Giroud cioè in pratica sto parlando di una squadra medio piccola chiamala come vuole Torino da metà classifica in giù allora l'anno scorso nove nove punti in tre partite li ha portato via nove ha detto niente nessuno vedi che già dice nessuno dice niente lo sai benissimo che quando sei in testa quando sei la più l'Inter è la più forte della Serie A che secondo me ha sulla carta come dici tu o come diciamo tutti noi poi dopo dipende poi dopo devi vincere il campionato perché sennò ti vince che è un'altra cosa che è un'altra cosa però Soloroli dice tutto vero quello che dici tu opini ma se tu fatichi col Genoa io non lo so quella partita lì senza con la spinta vinta da Bisse che vista quello è un gol annullato sarebbe stato un pareggio magari l'Inter vince 2-0 non lo so neanche non ce l'ho contro Pro per carità ma se nelle ultime partite succede che Giovanna ripeto il punto è uno solo che la gente dice e pensa nello stesso modo anche perché sono direttori sportivi che purtroppo secondo me Sogliano dice una cosa giusta ma se tu dici questo che lo dica contro la Juve contro l'Inter contro il Milan come fa Milan stasera che secondo me devo capire cosa è successo perché non può un personaggio di tale elevatura dire una roba così leggera senza pensare a quello che dice ok questo è il mio parere poi ovviamente può essere discordante da altri ma il concetto è tu arrivi da partite con Napoli dove ci sono stati due episodi chiave e hai vinto 3-0 perché sei più forte ma il primo gol va annullato poi c'è un rigore per il Napoli che non dai magari il Napoli va in vantaggio 1-0 finisce più tempo 1-0 cambia la partita a Genova quello ieri cioè ieri se il rigore fosse stato tirato sull'1-1 il Verona rischiava di vincere la partita poi nel calcio non può mai succedere perché magari l'Inter fa tre gol invece che fa due ma quel gol del 2-1 è il secondo di fila con un problema che innesca il VAR ci sono una serie di conseguenze Gianni devo andare io sono un ritardissimo 200 milioni di debiti ma io vorrei capire perché tanti tifosi mi scrivono anch'io adesso sono diventata gioco forza un po' social e leggo il tifoso che ammette che la gomitata di bastoni andava sanzionata e anche il tifoso stesso non si capacita di come non sia stata vista dal VAR ma c'è anche il tifoso che dice sì però stanno venendo fuori delle dichiarazioni troppo forti troppo pesanti come se i poteri forti volessero quest'anno che l'Inter vinca lo scudetto o comunque spianargli la strada in questa direzione allora perché l'Inter non prende posizione perché la mia società parlo del tifoso interista che ci scrive perché la società sta zitta questo silenzio è segno di una debolezza che da sempre c'è e da sempre viene imputata all'Inter no secondo me no segno di debolezza no perché comunque puoi dire tutto ma l'Inter ha una società solida una società molto esperta perciò io credo che se loro hanno deciso di far silenzio è un presidente molto lontano però no ma non c'entra il presidente può essere anche lontano o vicino il problema è sono quelli che ha intorno se lavorano bene sicuramente sicuramente la dirigenza dell'Inter però sul discorso alla domanda di Giovanna secondo me poi magari un altro può pensare in un altro modo secondo me hanno dei dirigenti talmente tanto esperti e navigati che se hanno deciso di far silenzio e non rispondere Marotta è il numero uno indistruttibilmente no ma non solo Marotta perché c'è Marotta c'è Augilio c'è Mano il pallino e lui Augilio viene dopo però posso dirti è una squadra importante perché se tu nella dirigenza hai solo uno diventa un problema gestire tutte le situazioni non voglio interrompere Giacomo però mi domando anche questo ma l'Inter come società questo dovrebbe dire di fronte alla roba di questo tipo cioè obiettivamente cosa dice? beh allora ma potrebbe dire mille cose no no ma è anche difficile dire qualcosa forse la cosa migliore è non dire niente no ma posso dirti ma tu secondo te l'Inter non ha nel suo bagaglio la possibilità di dire cose che magari sono state date contro può anche essere però non risolvi il problema però Gianni tu parli nello specifico del fallo di Bastoni o di tutto di quello che stiamo parlando adesso dell'ultimo periodo dove si sono un po' accentuate in termini di questi due errori di seguito che sono gravi due errori due errori quello di Bissek ragazzi beh allora allora io ti dico la spinta di ieri su Arnautovic non faceva gol per ora dai e no invece quello è stato è stato è la stessa cosa sono arbitri errori errori allora se tu mi prendi il discorso di no ma non so hai giocato a pallone lo senti tu perché ho giocato lì sai qual è il problema che l'albitro interpreta lui la forza della spinta esatto tu l'hai appena detto non è interpretabile la gomitata no quello no io sto parlando del discorso di Genoa no quello di Genoa è uguale c'è il giocatore buona per aria ho capito però la spinta non è quantificabile perché è lui che decide ma se uno tira dalle braccia così le tira così e molla anche le mani così come fa le due braccia quando appoggi tu lo sai te l'hanno spiegato no lo sa benissimo Gianni ma lo so però io ti sto dicendo ieri ieri quando Arnautovi va in contro per proteggere palla il giocatore Verona lo spinge dietro noi possiamo sapere l'albitro ha deciso che non era fallo e ha fatto continuare Verona ha fatto gol ok io parlo di questo non parlo del discorso dei bastoni si sta parlando di due episodi la domanda era cosa deve fare oggi la dirigenza dell'Inter come va in silenzio perché secondo me tutto sommato è la risposta migliore non dire niente per cosa vuoi che dica a cosa si appella a rispondere a chi appunto risponde a tutta l'opinione pubblica e a tutti quanti che dicono che comunque in qualche modo ieri la partita è stata condizionata allo stesso Sogliano che ha accusato in modo pesante è un dirigente scusa adesso permetti se io sono l'Inter e sento un dirigente che mi dice che la mia squadra ha deciso delle persone sopra il VAR che io devo vincere cosa vuoi che ti rispondo ma io dico che l'Inter fa bene non dire nulla perché tanto le accuse arrivano ai confronti della dirigenza arbitrale no no ma è esattamente quello che dico io non può dire nulla all'Inter in questa situazione tace e fa la cosa migliore cosa spiega che ha dei vantaggi grazie al fatto perché non è colpa di nessuno non deve rispondere secondo me poi non so cosa farà l'Inter se ad oggi non ha risposto poi domani magari risponde se la domanda me la fai a me io non rispondo a Sogliano che dice quello che ha detto no no ma certo capito quello il concetto è che io non riesco ad additare un voi rubate io non ce l'ho con l'Inter ce l'ho con gli errori che si stanno ripetendo tutti sempre a favore della Sasquale in questo periodo con il VAR che non interviene quando c'è da intervenire e col VAR che interviene quando c'è da intervenire in episodi molto ambigui perché il rigore di Turam in Inter-Frosinone del 2-0 in casa è molto meno fallo quello di Acerbi-Sosimena-Napoli la manata sulla spalla di Lautaro che dà il 4-0 contro l'Udinese è un rigore quello ma secondo me sì vanno pure al VAR no secondo me sì perché Lautaro arriva sulla palla arriva quelle rigore ma non ha convenienza la spalletta che si allunga tanto così non la spalletta ha sbagliato il difensore dell'Udinese perché Lautaro secondo te ha convenienza andare in terra che è a un metro dalla porta ma Lautaro ragazzi Lautaro è il giocatore più forte che c'è in Serie A e adesso come tra i 5 al mondo come punto ok però Lautaro Martinez non è uno di quelli che rimane in piedi noi abbiamo perso una Coppa Italia con un bel tuffo su 2-1 della Juventus a Roma si è buttato in piscina poi si parlava di quadrato e ce lo sono presi con l'Udinese adesso quadrato non è più un tuffatore parli parlo di l'autoro che non è uno che come tanti altri giocatori ogni tanto per quanto sia forte attenzione non sto dicendo che sia solo quello è tutt'altro che quello è un fenomeno a me piace da matti però come quadrato come Licksteiner l'abbiamo avuto anche noi ci sono dei giocatori che in Zaghi stesso era un mago in ara gli toccavi il sedere no per terra anche se poi io non so tanta cosa sui discorsi che Lautaro è uno che si butti però l'opinione è tua no vabbè certo allora ognuno ha la sua io ti dico uno come Lautaro con la situazione dell'Udinese se non lo tira lui fa gol perché ha troppo un po' di gol lo tira la cosa però che va sottolineata che convenienza ha se va dritto per dritto a prendere il rigore a prendere il rigore la cosa che va a prendere il rigore la cosa che va sottolineata Gianni a mio avviso è che in un momento di difficoltà perché obiettivamente l'Inter negli ultimi due partite non sta brillando come tutte le squadre non possono giocare sempre al massimo o attraversare sempre la seconda del girone tu ricordo non è arrivata prima finalista l'anno prima e la prima non è il Bayern Monaco Real Madrid lo sappiamo però voglio dire di fronte a un momento di difficoltà se hai degli episodi che ti tolgono le castagne dal fuoco è tanta roba ma tanta roba io credo che non lo so adesso ho sentito e ho letto che probabilmente faranno andare ad arbitrare in serie B ma non cambia niente non cambia niente le cose ormai sono successe e sono avvenute e tra le altre cose tra le altre cose condizioneranno anche il prossimo arbitraggio dell'Inter perché un arbitro avrà in qualche modo o uno del VAR avrà un po' più di di diciamo situazione imbarazzante nel decidere una roba invece che un'altra perché sa che avrà sarà le loche di un mireno questa situazione ha rovinato il campionato secondo me ha rovinato gli arbitri io ho detto una battuta prima l'ho detto all'inizio dell'emissione sembra che adesso chi deve abitrare l'Inter però è condizionante io sono d'accordo con te però ti faccio un esempio tanti interisti parlano ancora del caso Ronaldo Iuliano che per molti è rigore per molti no ancora oggi e non c'era il VAR in quel campionato ci sono poi altre cose che non tornano e l'Inter alla fine perde lo scudetto perché perde col Bologna di Mazinga e con i bari di Mazinga e col Bologna in casa di Paramatti cioè era a meno 5 punti quella partita quello era un rigore che dava al massimo il pareggio non ti faceva scavare la prima che era la Juve più 7 in quel momento andavi a 5 pareggiando è normale che poi le cose si compensino il concetto è uno è passato alla storia come Montari tutto troppo insieme come Montari ma non solo si ricorda il gol di Matri che era buono perché la Juve poteva perdere 2-0 il gol di Matri era dentro di 10 metri contro la Fiorentina e contro il Bologna 72 cm era dentro di 10 metri ma solo l'ha visto chiunque però anche lì non si parla mai del fatto che poi Matri in questa partita fa un gol che viene annullato e era il gol buono tutti dicono è il gol del 2-0 però certo verissimo magari vincita 3-0 a Milan che ne sai che invece non si ribalta il risultato non si può sapere però come hai detto tu c'è errore-errore quello di Montari errore-errore è stato un errore esatto esatto gigantesco ok come quello di Salerno forse il più grosso di tutti perché o dimenticarsi un uomo sulle telecamere ragazzi nel calcio a parte il gol di due metri che le linee devono essere viste da chiunque tanto di cappello a Buffon che ci ha provato lo stesso a salvare ma guarda lì lì dov'era quello lì secondo me è un errore tecnico addirittura sì quello di Canberra quello di Salerno della Serenitana che si dimenticano il giocatore sì sì per dire gravità certo infatti proprio per quello per me è un errore addirittura tecnico cioè avresti inficiato proprio la partita in qualche modo sì perché di fatto ragazzi c'è la dimostrazione che non c'era la copertura totale o perlomeno il concetto è tutte queste sviste o questo VAR che non funziona e non va a correggere una cosa grave accadono tutte più o meno ravvicinate e per la stessa squadra è quello che fa tra virgolette impazzire Sogliano in questo caso e tutti quelli che ne parlano in questo modo noi stiamo cercando di discuterne ok perché siamo qua ma senza ovviamente ma anche perché la tua premessa è la premessa di tutti non è la come dire il concetto semplicistico l'Inter no non c'entra l'Inter non è il soggetto no però deve finire per gli altri perché se la Juventus è Ruba se non è l'Inter non deve rupere non è mai così non è mai così vale per uno non è rubare una partita certo anche perché se rubi una partita non puoi neanche avere lo scontrino quindi non è che puoi rubare o lo fai bene o lo fai io dico che non ne posso più di vedere errori del VAR io non ne posso più di errori di arbitri fatemene vedere quanto ne volete ma il VAR accetto tutti ma su robe palesi non li accetto su robe palesi io mi ricordo un gol di Cutrone per dirti in Milan-Lazio di mano col VAR tu vai a rivedere l'azione questo si tuffa con le mani fa gol di pugno anche Milano-Udinese ma sì ma ce ne sono un'unica miriade in cinque anni se ne sono viste tantissime e questo non può diciamo che dopo cinque anni allora uno dice togliamo le cose soggettive e lasciamo il fuorigioco il gol sì ma non dovrebbe essere soggettivo a una gomitata una gomitata ma se io provo ogni volta a dirti Giovanna guarda che per me la roba è diversa e tu mi dici vai a cagare scusa il termine perché poi anche questo vola sono amici anche alcuni non vorrei pensare male o la macchina interviene quando si sbaglia e si cambia protocollo oppure così continueremo a discutere l'ultima direzione non deve essere del VAR non vorrei che fosse continuare a danneggiare per togliere VAR nel momento in cui metti la tecnologia devi adoperarla sempre esatto eh ma la dobbiamo rimanere la dobbiamo aspetta ma il problema non ci deve essere in questa situazione sì questa no tutti in tutte le situazioni devi usarla perché se la usi in certe situazioni in certe no o fai come ha detto Francesco esatto o viene a vedere l'altro ti risponde ma fatti a fare il tuo visto io ma allora cosa la mettiamo a fare il VAR scusami un attimo scusami un attimo di 50 anni ok in carriera 50 magari sono troppi oggi a quanto arrivano 40 45 45 io sono eh pinco pallino di 19 anni che viene messo al VAR su una roba a dubbio ti dico per favore Giacomo vieni a vedere no cosa mi risponderei tu posso dire 30 anni di carriera in più in un momento dove sei sul campo e sono seduto sul divano ecco allora Francesco posso dirti una cosa posso dirti una cosa io vengo sai perché non essendo presuntuoso tu esatto eh ma è quello che bravo l'hai detto io parlo come se io fossi un arbitro di 45 anni scusami che ha una carriera è presunzione ma è quello che stanno dicendo dal inizio vanno lasciati a casa se un giocatore tira un pugno a uno fa tre giornate a casa questo è uguale Francesco sembra che è una cosa che non continente ma quando io prima a Giovanni ho detto questi arbitri sono nati tutti senza VAR allora loro si sono trovati il VAR e cosa è successo come io che ho questa esperienza ho bisogno di uno che mi dica viene a vedere poi un collega che oltretutto magari meno autorevole come mi dice perché non si fa un passo avanti in questo famoso protocollo mettendo la chiamata della panchina perché non si fa la chiamata della panchina lascia stare la chiamata e beh ieri il Verona la chiamava e andavano a vedere il VAR io invece di fare scusa invece di fare il passo avanti almeno vai invece di fare il passo avanti devi fare un passo indietro è una chiamata per tempo vedi dice anche Gian Bruno io dico se fai tutte queste cose non è il basket finisce non finisce mai ma allora anche adesso è sbagliato pensarla così scusami invece di dire fare il passo in avanti io farei un passo indietro devi ritornare a fare l'umile e farti aiutare dal VAR e dalla tecnologia ma non lo voglio la chiamata serve per aiutarti non lo voglio non lo voglio che la chiamata serve proprio a togliere diciamo è come il falco è mettere di fronte le prime responsabilità cioè lì ci devi andare scusa Giovanna se ieri il Verona avesse chiamato la visione al VAR quindi davanti a uno schermo per andare a vederlo io voglio vedere quello dopo di fronte a dover dire che non è vero che questo ritiro una gomitata ma infatti lì l'errore è di Nazca io sono per la chiamata ma si fa negli altri sport ma scusa ma scusa ma scusa ma scusa ma perché devo inserire la chiamata che c'ho il VAR sono in quattro che guardano no perché non ci vanno Gianni ti devono chiamare e tu devi andare anche se hai 50 anni di esperienza e chi è dietro il monitor ne ha 20 non lo fanno è una dimostrazione di ieri e allora andremo avanti sempre con le dimostrazioni ma ragazzi c'è purtroppo come sempre la lanna caprina il regolamento non è chiaro o meglio è soggettivo come dice Allegri per cui il VAR può intervenire solo in un episodio se c'è di fronte un errore chiaro ed evidente anche qui chi è che stabilisce la chiarezza e l'evidenza dell'errore è soggettivo anche questo l'arbitro poi in teoria è tenuto ad andare al VAR a vedere e comunque l'ultima decisione spetta lui lui arbitro ma in pratica può anche dire l'ho visto io non ti preoccupare quindi il check finisce in un secondo e non va esatto perché sennò la macchina è come dicevamo prima il croupier se sbaglia al casino viene corretto da uno che guarda i video del croupier e va lì e dice ciccio hai sbagliato punto facciamo quello che dico io finito no che larvi che lui dice no no finito oltretutto se una roba è palese è palese basta lì non puoi far dire ho visto la gomitata di bastoni in campo perché siccome sai che lui la vede se guardate le immagini la vede e fa un gesto per dire avanti sì perché dice che lui simula lui ha detto che ha simulato la cadenza guarda Duda lo punta gli tira la gomitata e fa così lui dice che simula dice come alzati perché hai fatto la scena avrebbe dovuto amonirlo ma no ma è assurdo io preferivo un Fabri che non ha visto e invece Fabri anche a me ha dato l'impressione sono presuntuosi sono presuntuosi non c'è niente da fare la presunzione è questa è ridicolo ancora parlare di protocollo nel 2023 con una tecnologia che ti può aiutare anche oggi Fra commentava la partita Salernitana Juve Vlaovic calcio in porta viene deviato calcio d'angolo non viene assegnato che ne sai tu che se da quel calcio d'angolo ti possa cambiare la partita magari toglie la palla dalla porta per dirne un'altra come dicevi tu oggi è impossibile pensare che queste robe non possono essere corrette subito noi l'abbiamo visto dopo tre secondi eravamo qua eh tutti tre secondi perché dal bar non posso dire hai sbagliato è angolo non rimesso ma perché scusate ma perché in tutti gli altri sport esistenti la tecnologia viene rispettata cioè io seguo il tennis ragazzi c'è la chiamata è sentimento è qualcosa di considerabile Giacomo tranne per alcuni ma li vedi gli arbitri oggi come si atteggiano in campo dai sono molto più curati degli giocatori stessi ma sì da allora ben ritrovati dopo le parole in grafica e devo ringraziare il nostro grafico Fabrizio Farinelli ringrazio anche Claudio Carini Balesini insomma ringrazio tutti è giusto ci sta Balesini che ha più figli di Coppe dei Campioni Fabiano Foschini Claudio Carini insomma abbiamo Alfredo Penatti insomma tutti i nostri hai sentito la chicca di Gianni no cos'è che ha detto Balesini ha più figli che Coppe dei Campioni ecco lui che mi sta inquadrando Balesini ha no più figli di quante Coppe dei Campioni abbia vinto cioè quattro figli da 22 beh quello quello è vero cinque figli tre sì beh tre diciamo la terza io non la considero perché va bene il Barcellona che viene in pulma la San Siro e li ho tenuti a battesimo tutti pensa da quanti anni tutti a tre neanche un musulmano il Barcellona che viene in pulma la San Siro allora allora Inzaghi ieri in conferenza stampa dopo aver risposto a Sogliano dicendo beh lo capisco mi è capitato anche a me di perdere partite così è tornato su Acervi perché gli hanno fatto notare le dichiarazioni di Acervi che tanto hanno un po' hanno indispettito insomma il tifo bianconero e lui ha risposto così dai andiamolo ad ascoltare probabilmente è il pensiero è il pensiero che quando si legge che l'Inter lo si dà per scontato le vittorie i 48 punti non è così non è così perché la classifica non dice questo c'è una squadra attaccata no ci sono altre squadre l'anno scorso con 50 punti del Napoli fine giro di andata c'era c'era il Milan il 38 e l'Inter e le due romane il 37 quindi non è così scontato come tutti dicono e non è così scontato sostituire dei giocatori importantissimi che hanno fatto la storia dell'Inter per sostituirli con altri giocatori che chiaramente la società ha fatto tutto il possibile è stata è stata bravissima a mettere in mano a me e al mio staff un'ottima squadra anche quest'anno però con delle difficoltà ci siamo messi lì abbiamo lavorato abbiamo cambiato dei giocatori indispensabili che avevano appena fatto vinto due trofei e fatto una finale di Champions e abbiamo lavorato quindi probabilmente il pensiero di di Francesco è che si dà troppo per scontato e non si danno i giusti meriti a un gruppo che in queste 19 partite ha fatto un grandissimo lavoro che solo se portato a termine darà i propri brutti beh insomma si ha spiegato quello che dicevamo anche noi le parole di Acerbi che non era denigratorio nei confronti della Juve ma come dire si non è che se vinciamo è come andare a fare la spesa è un qualcosa comunque di eccezionale di grande e che va dato merito ai dirigenti e al gruppo di aver costruito mattone su mattone c'è Gian Bruno che voleva fare una giusto? visto che l'ha fatta Inzaghi in conferenza perché Inzaghi dice comunque noi abbiamo 48 punti non era scontato l'anno scorso il Napoli ne aveva 50 poi il Napoli vabbè aveva ammazzato il campionato lo ha vinto sono andato a recuperare per vederle insieme la classifica dello scorso anno dopo 19 giornate il Napoli ed è un dato che è veramente assurdo veramente senza senso aveva 50 punti come citava Inzaghi quest'anno ne ha 28 la 19esima giornata 22 in meno è pazzesco in mezzo girone dopo 19 partite ha 22 punti in meno l'Inter sta facendo molto bene perché l'Inter ha 48 punti e l'anno scorso ne aveva 37 quindi 11 punti in più rispetto all'anno scorso e chiaramente anche la Juventus che ha girato quest'anno a 46 io qui ho un dato della Juventus dell'anno scorso con 28 punti credo già con i 10 tagliati poi i finali quindi erano 38 comunque parliamo di 8 lunghezze in più sono quasi 3 vittorie stanno facendo molto meglio Inter e Juve e le altre il Milan chissà il Milan aveva l'anno scorso 38 punti quest'anno ha fatto ancora meglio un punto in più rispetto all'anno scorso sì più o meno e beh vedi Atalanta meno 5 zitto zitto anche la Roma 8 punti in meno rispetto all'anno scorso la Lazio 7 punti in meno rispetto all'anno scorso quindi più o meno tranne l'Inter e la Juventus hanno fatto tutte peggio e il Milan un punto in più bello bello mi piace a volte veramente i numeri fotografano situazioni anche perché sulla carta non avremmo mai detto una situazione del genere perché il Napoli si è vero è andato via Kim giunto gli spalletti però un tracollo del genere però attenzione perché ad esempio adesso sta per arrivare questo periodo difficile per l'Inter perché deve andare a giocare la Coppa quindi salterà un paio di partite non solo ma il 4 di febbraio a meno di un mese c'è Inter e Juventus 4 febbraio è un momento perché ragazzi i due punti non sono niente quando c'è ancora uno scontro diretto di differenza il problema è che la Juve ha sempre un po' il suo modo di giocare ma ragazzi non prende gol la Juve è solida l'Inter ha preso meno gol della Juve però va detto questo l'Inter ha preso meno gol della Juve l'Inter ha il miglior attacco in Italia la miglior difesa in Italia forse una dei migliori in Europa credo non lo so come differenze sicuro in Italia la miglior difesa è il miglior attacco la differenza vera e propria all'Inter in questo momento secondo me la sta facendo il fenomeno che andava avanti sì sì Lautaro ma infatti si è visto come è mancato Lautaro che già all'Inter ha fatto partita io dico che Turan ragazzi quest'anno non so in quanti si sarebbero aspettati un giocatore del genere vero sul discorso dei gol fatti Lautaro però vedi come gioca come gioca meglio Turan con Lautaro come giocavano meglio Dzeko e Lukaku con Lautaro lui fa giocare bene gli altri e quindi ti fa alzare tutto il livello d'attacco sicuramente sì però io ti dico quest'anno almeno il girone d'andata 16 gol da sola io di Turan non me lo sarei mai aspettato perché è un giocatore che comunque è bravo a proteggere palla fa salire la squadra bravissimo è bravissimo cioè io un giocatore io l'ho visto poco ma non pensavo mai che potesse fare un campionato ammetto anch'io questo però ti ripeto senza Lautaro gioca di versione vabbè Lautaro ha fatto più gol che partite no ma fa giocare bene cioè quando Lautaro quando Turan ma di fianco a Lautaro si sente meglio anche lui più tranquillo ma anche ieri proprio delle giocate che non proverebbe ieri per esempio il gol che ha fatto Lautaro tra Michitare Turan e Lautaro ha fatto una giocata pazzesca sì Lautaro fa una fenomenale che sembra facile il gol lì non è facile per niente ma anche per esempio Michitare io non me lo aspettavo così perché alla Roma secondo me non giocava io lo dicevo non era titolare no ma giocava anche in un ruolo diverso quando mi dicevano fratelli Sanzolari io ridevo quest'estate io sono d'accordo ma lì dobbiamo però riconoscere anche un merito a una persona che non si nomina quasi mai no? a Usilio? no no a Inzaghi che ha saputo anche mettere in campo togliamo le ultime due partite dove l'interesse anche eccetera giocatori che sembravano bolliti, finiti o erano incogni e potrebbero rendere al massimo attenzione un anno fa il bollito era Inzaghi lo stavano mandando via chi è che avrebbe sopravvalutato Inzaghi? no cioè chi è che avrebbe fatto sopra a Cervi? no beh perché l'ha avuto a Lazio lo conosce molto bene certo vabbè ho capito il militarean era comunque un giocatore no ma poi è riuscito a cambiare anche nel momento in cui si fa male il militarean era un fenomeno sia in Germania che alla Roma sì ma alla Roma alla Roma Francesco secondo me era meno giocava in un ruolo diverso faceva più il trequartista certo era un trequartista adesso fa proprio il centrocartista ma il problema è che Cialanogru nel momento in cui viene a mancare Brozovi lo mette lì e si trova un Cialanogru per caso per caso però non l'aveva mai provato prima è come quando Allegri fa giocare i fagioli perché deve farlo giocare però Francesco non è merito di Allegri lì è fagioli che gioca perché non c'è nessuno quando cambia un giocatore gli cambia il ruolo così l'allenatore comunque per caso non per caso è lui che glielo fa cambiare certo 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 infatti lì le mani le devono mangiare gli amici milanisti perché quando è andato via Cialanogru mi ricordo come come erano contenti però non era considerato al Milan non giocava ma non giocava così perché giocava in un altro ruolo sì ma anche quando però mancava di continuità comunque al di là del fatto del ruolo certo aveva fatto vedere che era uno che sapeva giocare a calcio però faceva una partita sì una no ma quest'anno per esempio una delle doti che ho visto rispetto all'anno scorso e che ha l'Inter in più e nel momento in cui perde palla tutti vanno alla caccia del recupero della palla in un modo pazzesco questa si vede comunque che è stata studiata e hanno lavorato su questo perché Cialanogru Michitare non era gente che però proprio per questa forza che l'Inter ha e io riconosco ok e ti dico Cialanogru solo me in quel ruolo è uno dei più forti in Europa di distacco di Marco per me ad oggi è l'esterno più forte d'Europa non d'Italia d'Europa ad oggi certo l'Autaro è tra i cinque più forti attaccanti del mondo perché insieme a lui ci sono Bappé Holland Ozyman e Ken dico Bellingham anche se non è un attaccante però di Marco in quel ruolo c'è un signore che si chiama Teornandes non è più quello di prima io l'ho visto adesso ragazzi io sto parlando di adesso di oggi sono 15 giorni che sta giocando non bene di più sì ma sono 15 giorni Teornandes deve fare tre stagioni ha passato un momento ha passato un momento ti sto analizzando questo perché ti dico in tutto questo Mkhitaryan qualità altissima Varela per me Varela è il primo che prenderà l'Inter per la Juventus in assoluto perché rompe le palle perché corre perché tira perché pressa perché infastisce gli avversari è proprio quello che non vorrei mai aver contro giocando a pallone ok quindi per tutti questi motivi si racconta poi di un'Inter fantastica ragazzi una Juventus senza Pogba e Fagioli con cinque rotti ogni partita col casino l'anno scorso con la dirigenza che esplode con l'allenatore che doveva finire a vendere i pomodori per molti e ha due punti a questa squadra due punti Allegri sta facendo un miracolo no ma infatti nessuno può dire niente bisogna andare qui e chiedermi scusa a me stupiva oggi questo va fatto un mese fa due mesi fa quando la gente diceva eh ma vince solo 1-0 io questi erano più i tifosi juventini sai quante Champions vorrei vincere di quelle perse 1-0 però secondo me non se ne sono resi conto tra l'anno scorso e quest'anno cosa ha passato questa squadra certo esatto bravo secondo me non si rendono conto no non lo sanno perché quando lui mette Miretti e Fagioli che è obbligato non ha più nessuno gli sono venuti a mancare tutti tutti gli aveva 12 fuori lui lì allora lui l'ha fatto per caso perché è stato obbligato a me è merito di Inzaghi di scusa di Allegri comunque cioè lui l'ha fatto perché gli sono venuti a mancare Pobba gli è venuto a mancare tutti tutti Paredes Locatelli non l'ha mai avuto però per dirti tra l'anno scorso e quest'anno l'Euventus ne ha avuto di tutti i colori comunque lì ancora con una squadra è l'unica alternativa all'Inter con una squadra che secondo me Giovanna però secondo te è un caso che Bologna e Sassuolo hanno fatto i stessi risultati con l'Inter e con la Juve e che Juventus e Inter abbiano pareggiato? non è caso perché ad oggi i due punti che la Juve mancano per essere lì a pari sono quelli di Genova e il rigore di Bani secondo me tolti quei casini di oggi di ieri di Verona non me ne so che niente cioè ti dico guarda caso sono due squadre che viaggiano con una media diversa perché quella con l'Inter è stradipante che Genova sia decisiva sì perché bis che tutto quanto sarebbe meno due o più due Francesco devo andare guarda Grazie a tutti.